I rapporti familiari complicati da matrimoni, e tradimenti incrociati, sono all'ordine del giorno nella storica SOAP opera americana, in onda fin dall'ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Broke e Bill, e il ritorno di Shayla, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno alla casa di moda Forrester Creations. Ecco le anticipazioni di Beautiful in onda da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno alle 13. 40 su canale 5. Beautiful sbarra nelle puntate precedenti. Liam infioda Bill per l'incendio Beautiful, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Steffi cerca di convincere Bill a trovare una soluzione, assieme a Liam, per ricomporre il loro rapporto. Intanto Broke confida a Ridge che Bill si prenderà un'aspettativa, e che Liam prenderà il suo posto. Thomas chiama Salvi per dirle che non tornerà a Los Angeles Galen per restare definitivamente con Caroline, che sta guarendo, e con suo figlio. Liam compra da C.I. Lunga alle migliori condizioni l'edificio della Spectra, e lo dona a Salvi, che è felice di poter ricominciare a lottare per raggiungere i suoi sogni. Beautiful, puntata di martedì 29 maggio 2018 Liam cede l'edificio acquistato della Spectra a Salvi che non trova le parole per ringraziarlo del suo gesto. Intanto Broke interroga Bill per sapere che cosa lo turba, e perché non vuole più partire per il viaggio come promesso? Lui le confide in perché Liam lo ha costretto a dimettersi. Beautiful, puntata di mercoledì 30, e di giovedì 31 maggio 2018 Bill è costretto a dire a Broke tutta la verità sulle sue dimissioni dall'azienda, e sulla storia dell'incendio, che ha devastato la Spectra. La reazione di sua moglie è di netta condanna. Liam è sempre più determinato a distruggere suo padre, nonostante i tentativi di mediazione di Steffi. Diatti non si capacita di come suo padre abbia potuto nominare amministratore delegato della Spencer Liam e non lui, ma la storia d'amore con Katia è il sopravvento. Beautiful, puntata di venerdì 1 giugno 2018 Queen incoraggia Luigi. Convinta che prima o poi Broke litigherà con Bill, e tornerà da lui. Broke, infatti, fuori di sé con Bill per l'incendio della Spectra, e perché ha picchiato Liam, mette in dubbio il suo matrimonio. Steffi continua a perorare la causa di Bill, perché crede fermamente che sia pentito, ma Liam non ne vuole sapere. Charlie svela a Queen che Shayla è ancora in città, e le dà l'indirizzo per raggiungerla. Così fra le due si scatena una lotta furibonda. Ciao! 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 Ciao!